Presidente, che impressione ha avuto entrando in questo centro sportivo? Un'impressione impressionante, veramente notevole, ho fatto i complimenti al sindaco e a tutta l'amministrazione, hanno fatto un gioiello e come ho detto anche prima, una top location oggi per una squadra di calcio. Se viene completato con un albergo qui a Clusone è proprio perfetto. Hanno fatto un ottimo lavoro, mi è piaciuto molto, è un gusto da Atalanta. Che significato ha per lei questo ritiro? Io sono nato qui per cui pensare di portare l'Atalanta a Clusone era un sogno. Ce l'abbiamo fatta e per me è un accordo che minimo prevedo che per dieci anni si possa continuare. Che aspettative ha invece su questo ritiro? Le aspettative di fare una bella preparazione perché ci aspetta un grande campionato, un duro campionato, la Champions League, la Coppa Italia, insomma c'è tanta roba e per cui credo che dal punto di vista strutturale sia perfetto. Arriveranno nuovi giocatori? Si aggiungeranno alla Rosa durante questo ritiro? Vediamo, c'è tempo, ci sono due mesi per cui da qui a fine agosto abbiamo il tempo per intervenire e eventualmente avessimo bisogno. Qual è il messaggio per i tifosi che verranno in questi giorni a vedere l'Atalanta che si prepara, lo ricordiamo ancora una volta, la Champions League? Credo che anche per i tifosi vedere un'Atalanta che arriva qui al loro paese sia molto bello, non capita da una vita, questa è una grande opportunità, credo valga la pena per tutti quanti che siano più numerosi possibile per vedere anche i nostri ragazzi come si allenano.